ciao sono tina pallotta e sono la consulente della farmacia di nardo oggi sono qui perché la primavera è quasi alle porte e quindi se anche tu vuoi avere una pelle perfetta o quindi più luminosa ricordati sempre come ho detto in diverse occasioni che è importantissimo esfoliare la pelle l'esfoliazione quotidiana della pelle infatti migliora la superficie e soprattutto ha la caratteristica di andare a rinnovare il turnover cellulare l'esfoliante poi rende la pelle più luminosa più levigata e più compatta ricordati sempre che è meglio utilizzare un prodotto più leggero durante la giornata e quindi mattina e sera che utilizzare un esfoliante un po più aggressivo l'esfoliazione quindi deve essere poi fatta anche a misura della nostra pelle la giusta intensità varia anche in base al nostro tipo di pelle e al periodo dell'anno ricordati poi sempre che l'esfoliante non va affatto soltanto nei mesi più caldi ma anche durante l'inverno e gli esfolianti chimici quindi quelli come per esempio l'acido salicidico sono migliori di quelli meccanici se sei curioso di provare uno di questi esfolianti passa in farmacia che sarò lieta di darti qualche campione ciao a presto